L'assessore e il sindaco consegna a Marco la maschera del sububbuiore, il gremio di San Giovanni, insieme a Manistella. Tanto affetto intorno a te. Eh sì, tanto, molto. È stato bello. Te l'aspettavi? Sei contento? Sapevo che mi volevano bene, però non così tanto. Speriamo sia l'occasione di avere un'altra seduta su di lui, nella Dubai World Cup di 8.000 dollari. Grazie mille. Miglior Fantino apprendista, insomma è stata per te una stagione straordinaria questa? Sì, è stata bellissima, speriamo che ce ne siano molte altre così. Dove pensi di poter arrivare? Adesso provo ad arrivare a 100 vittorie prima del 31 dicembre, speriamo ce la faccia. Quando torni in Inghilterra che cosa prevede la tua agenda di fine anno? Torno martedì e mercoledì, ci sono già due prenotate, speriamo dell'anno bene. Di tutte queste vittorie, qual è quella che ricordi con più piacere? Sicuramente è Royal Ascot. Toll'imitante, testana e legale di a qualssiai, connessi di piano di altra! Anderle a piedi di Finnsignale, Cuno di Giappini, Anni MLS, Faccio, Inca, Giappini, Dio, Cuno di Giappini, Comfie, Cuno di Giappini, Scusi, now EW Paola del mondo, ha raggiunto uno dei nostri, e adesso di Tio, che chiama il giro, Ascoli, Astro, e in Italia, la raggiunto, il mostro, e che rimane, Grazie a tutti.